Come esportare in 4K e altissima qualità i vostri Reel per Instagram, in modo che siano anche leggibili dal vostro iPhone. Se avete registrato dei filmati in formato verticale in qualità molto alta, questo è il metodo migliore per avere una qualità molto molto elevata e anche che il vostro iPhone riesca comunque a leggerli senza problemi. Quando li trasferite tramite AirDrop o altri metodi. Finito il progetto, andiamo su Esporta, selezioniamo come formato H.265 e come predefinito in 4K. Da qui, reimpostiamo come sorgente per non perdere il taglio verticale e facciamo Esporta. Una volta esportato, potrete passarvela sul vostro iPhone o comunque caricarla direttamente su Instagram per avere una qualità molto elevata.